Buonasera, buonasera e benvenuti in questo fantastico 2010 Agnoc Calcio Show edizione nuovo anno. Io ne approfitto subito per augurarvi come abbonati Sky, ma non solo come abbonati Sky, un bellissimo 2010, grazie. È finito finalmente il girone di andata, quindi possiamo dire che ci sono i primi verdetti, l'Inter campione d'inverno, Ferrara sarà esonerato entro fine gennaio sicuramente, c'è una brutta notizia piuttosto che è questa. Nello spoletoio della Lazio, oggi nell'armadietto di Zarate, è stato trovato un souvenir di piombo del Colosseo, una statuetta che Zarate aveva comprato per tirare a Ballardini, la voleva dare a Tartaglia perché la tirasse a Ballardini per sfigurarlo. E questo dispiace perché non sono bei gesti, non vogliamo che il partito dell'odio abbia il sopravvento. L'Atalanta purtroppo dopo l'esonero di Conte ha perso. Cosa è successo? Conte è stato appena esonerato, noi avevamo una webcam a casa di Conte, l'ha presa malissimo perché c'è rimasto malissimo, perché lui è ancora molto legato all'Atalanta. Vediamo la webcam a casa di Conte, vediamo come Conte ha reagito alla notizia del... Cavani, Coppola, Coppola! C***o, C***o... C***o, 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 C***o... Ma vieni, andiamo! Avete... Ci sta bene, sì! Una cosa vergognosa, bene, molto bene! Allora...